Steven, Steven, i miei cappelli stanno diventando bianco, lo so, teneri già accorto, lo so, però se non vuoi che li perda completamente, tira fuori questi benedetti 8 milioni, tirali fuori, me la sto facendo letteralmente addosso, mia madre ogni ora viene a chiedermi, ma ti lavi? Sì mamma, mi lavo, ma l'odore della paura, quello non va via, quello non si smacchia, allora, 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 mettetemi anche ai lavori forzati, se serve a qualcosa, ma portatemi l'architetto danese a Milano, portatemelo a Milano, per favore. Prima di tutto ciò scarichiamo l'app OneFootball così rimaniamo aggiornati e vediamo se qualcosa è di nuovo e se arriviamo ad un epilogo felice perché è veramente snervante, credetemi, in descrizione c'è il link, è gratuito, la scarichiamo. Buongiorno, e che giorno, ho fatto un sogno, uno di quelli strani, che Eriksen arriva domani, non lo so, non lo so, non lo so, ultimamente sto anche delirando, ma io non ci credo che l'Inter sta trattando Eriksen, ma no, ha in tasca Eriksen, ha il sì di Eriksen, ha praticamente chiuso tutto, ha chiuso i giochi con il giocatore, 8 milioni alla faccia del bicarbonato, una bella frascata, 8 milioni più bonus di ingaggio, una bella frascata, ma non me ne frega niente, non me ne frega niente innanzitutto perché quei soldi poi li caccia l'Inter, ma soprattutto perché qua, e voglio rimarcarlo ancora una volta, stiamo parlando di uno dei centrocampisti più forti d'Europa, potete menarmela, potete menarmela con il ritornello, sì, ma hai visto gli ultimi sei mesi, ma tu hai visto cosa sta combinando Conte con l'Inter, l'hai visto o no? Che Borca Valero mi sembra diventato un giovanotto, figurati cosa può combinare con Eriksen, se Borca Valero dal bastone che aveva l'ha buttato per ritornare giovane, cosa può fare a Eriksen Conte, cosa può fare? Quindi è inutile che ce la maniamo con questi sei mesi di Eriksen, qua si sta parlando di uno dei centrocampisti più forti d'Europa, il problema è che sì, c'è questa euforia generale, questa contentezza che ci sta alla grandissima, però allo stesso tempo calma perché l'Inter si è spinta anche abbastanza oltre, dai dieci iniziali è arrivata a 12 milioni più bonus, ma il Tottenham resta irremovibile, vuole 20 cucuzzi, allora io non lo so, sì, è il gioco delle parti, bisogna trattare, bisogna salire, scendere, bisogna, non lo so, bisogna impazzire, però 8 milioni ci dividono, 8 milioni dividono il nostro sogno, dividono il sogno dalla realtà, troviamo il modo, troviamo il modo veramente di portare Eriksen a Milano, perché? Perché ne vale la pena, ne vale assolutamente la pena. Stiamo a vedere, Sky ci ha fornito le immagini della cena tra il procuratore e Marotta, e niente, l'Inter si sta muovendo bene, l'Inter si sta muovendo su più fronti, ricordiamoci che Eriksen è una delle tante trattative, abbiamo parlato tantissimo nella giornata di ieri dello scambio Spinazzola-Politano, ancora si sta allimando l'offerta finale, le formule, i cavilli, le presenze, i minutaggi, la Roma chiede che queste presenze, le 15 presenze di cui abbiamo già parlato nel video precedente, non siano poi dettagliate dai 45 minuti, perché per presenza l'Inter vuole che la si acquisisce quando il giocatore svolge 45 minuti di partita, invece la Roma l'importante è che me lo metti in campo, anche se gioca un minuto, quella per la Roma deve essere presenza, o meglio, è la trattativa che vuole percorrere, poi i dettagli tecnici, burocratici, la parola esatta non mi viene, non capisco una mazza di contratti, figurate se mi viene la parola ognuna magica, e quindi questo è il discorso, c'è già l'alternativa pronta, Moses sull'altra fascia, l'Inter praticamente ha in tasca, come si chiama, Ashley Young, ne parleremo magari più là, pare veramente chiuso anche Young, e c'è praticamente Giroud, anche quello già tutto fatto, deve solo partire Politano, e non è finita qua, perché poi in uscita si parla di una cessione di Lazaro, che andrebbe in prestito, praticamente bocciatura secca, ma l'Inter si sta muovendo, si sta muovendo, però mi è venuto già il mal di pancia, già devo andare in bagno di nuovo, e poi devo sorbirmi mamma che mi fa la stessa domanda, per cui Steven, Steven, troviamo un po' questo denaro liquido, perché i soldini ce l'avete voi, ce ne avete anche tanti, quindi non vogliamo più soffrire, non vogliamo soffrire quasi, qua vogliamo i giocatori, e comunque si sta lavorando bene, si sta lavorando bene ragazzi, sta venendo fuori una bella squadretta, però, 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 attendiamo il verdetto finale, quello sarà il giudice, il verdetto finale, poi quindi sarà decretato, basta, buona giornata, buongiorno, ho fatto un sogno ragazzi, che domani arriva Eriks, non lo so, ho fatto un sogno, uno di quelli strani, che Eriks arriva domani, speriamo, 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 un abbraccio, amala, sempre e comunque. Sì, 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 sì.